Qual è il nostro contatto? L'idea che la grafica essendo riproducibile in vari esemplari avrebbe potuto far conoscere i vari artisti, i vari autori in un modo più capillare. E questa è la cosa interessante secondo noi nella grafica. E quindi devo dire che con Paolo di questa cosa se ne discuteva spesso, Paolo poi, inutile dirlo, ha prodotto grafiche importantissime, artisti importanti, ha fatto cartelle, ha fatto un lavoro veramente grossissimo in quegli anni. E quindi questa è stata un po' la mia introduzione al mondo della grafica, insomma, il mondo dell'arte moltiplicata.